Il lago di Fogliano, che nella zona pontina bonificata e redenta al lavoro, conserva tutta la suggestione delle solitudini e per il fiorente palmetto, l'aspetto incantato di un angolo d'oriente, si è svolta un'interessante battuta di caccia alle polaghe, alla quale ha partecipato sua eccellenza Galeazzo Ciano. La valentia dei cacciatori e l'abbondanza della selvaggina hanno reso la partita animatissima e copiose le prede. La valentia dei cacciatori e l'abbondanza della selvaggina la valentia dei cacciatori e l'abbondanza della selvaggina. il panettone è il dolce sano semplice e cordiale che racchiude i prodotti migliori del suolo e del